Musica Ui ragazzi come va spero tutto bene Ebbene si state vedendo un'altra inquadratura perchè finalmente ragazzi mi è arrivata la Logitech C920 Voi non sapete porca troia da quanto minchia la stavo aspettando E finalmente ragazzi mi è arrivata Infatti ora sto registrando veramente ma è una cosa normalissima con questa facecam Vi ricordo che prima registravo con questa facecam Si perchè perchè Comunque è buona questa facecam E poi non è facecam E tipo non so perchè guardo la perchè io la mi vedo Questa qui non è male anzi non è una facecam e una gopro diciamo Però comunque non è male ve la consiglio E se la mente è buona E l'activeon la userò per fare i vlog e cose del genere Comunque non l'ho detto benvenuti nel vlog Vi ricordo subito di lasciare un bellissimo like perchè ovviamente il like ci deve stare sempre Ditemi ovviamente come si vede perchè non so è la prima volta che registro e quindi non so ovviamente come si vede E' molto molto comoda E' piccolissima se non torna sicuramente la starete vedendo Ecco qua sto registrando Adesso e sto appunto vi sto facendo vedere anche se tipo si vede Malissimo Cioè non è che si vede malissimo si vede tipo a cerchio E niente sto registrando E' raga posso dire veramente molto 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 comoda No raga non so mi viene da guardare qui c'è qui e non lì Perchè mi sto guardando E' una sensazione che è Brutta sensazione Perchè io mi voglio guardare però non riesco a guardare voi Quindi questa cosa qui ora la devo togliere Mi raccomando lasciate un bellissimo like E supportarmi ogni giorno Ovviamente anche un bel commento Voglio ringraziarvi per i quasi 7000 iscritti Mamma mia 7000 Ma voi non potete capire quanto minchia sono questi 7000 iscritti Cioè io ho aperto il canale con la speranza di arrivare a 1000 iscritti Ora ne ho 7000 quasi Ma non mi rendete conto Io Io a 7000 iscritti Mi farebbe un po' più piacere però Che questi 7000 iscritti guardassero Si dice guardassero Di più i miei video Perchè comunque mi farebbe piacere E niente quindi io invito a guardare i video Perchè comunque non sono fatti male Almeno per me Il mio piccolo impegno ce lo metto E certi di voi apprezzano anche il mio impegno Quindi vi ringrazio veramente Mi raccomando Nei video supportiamo ogni volta con un bellissimo like Se noi facciamo 400 visual Queste 400 persone Lasciate un bel like Perchè sarebbe tipo fantastico Che magari io guardo il mio video e lascio like Guardo un altro ragazzo Guarda il mio video e lascio un like Magari 400 persone che vedono un video Lasciano 400 mi piace Questa che è impossibile però va bene Mi suonano pure Altra cosa Volete di più clash royale Se si raga mi raccomando lasciate tanti bel like E ditemelo anche qui sopra nella scheda Vi avrò scritto tipo volete di più clash royale Ad esempio più clash royale saranno tipo due volte a settimana Se si appunto Votate qui sopra Per favore vi dico una cosa Vi chiedo un favore Mi potete consigliare una ctm Una ctm Magari bella Bella perchè bella Una ctm bella che però non l'ha portata nessuno youtuber Quindi se per favore me lo volete dire Se la volete vedere questa ctm dal mio canale Per favore se me lo dite Anche perchè sono indecisa se portare una ctm O no Quindi se per favore me lo dite perchè sono indecisa se portarla Oppure quale portarla Poi per favore se mi potete dire una cosa Si raga mi scrivete tutte ste cose in un commento Sto meglio così come mi state vedendo adesso O così Se per favore me lo potete dire perchè non so Qua tipo sembra che sono tutto bianco bianco Mamma mia quanto sono bianco Invece così sembra che sto normalmente Se per favore me lo potete dire perchè sono indeciso I giochi sulla PS4 come state vedendo Li sto portando Si li sto portando perchè Ehi la zanzana mi appunto Perchè comunque per registrare mi metto quella Quella lì proprio quella lì che state vedendo lì La metto qui E quindi riesco a mettere il microfono Che lo tengo qui Ora non so se lo riesco a mettere Questo qui Questo Non lo state vedendo mai Però questo Riesco a metterlo sopra quella cosa lì Tutta quella cosa lì nera Quella quella ok Quindi più o meno i video sulla PS4 Li porto Li porto una volta ogni due settimane Una volta a settimana Dipende anche da voi L'ultimo video sulla PS4 Il fatto tipo di Call of Duty Ha raggiunto i 78 Mi piace Che sono un botto Ne avevo chiesti i 70 Quindi Mi porterò altri giochi Sia su PS4 Che su COD Però ovviamente Minecraft e Clash Royale Non mancano Spero che comunque questo vlog Vi sia piaciuto E' la prima volta appunto Che registro un vlog Con questa logitech Mamma mia come è bello questo logitech Spero che comunque vi piaccia Anche La qualità Perchè mano a mano ragazzi Sto cercando di migliorare sempre di più A portare attrezzature migliori Cioè il microfono Io ho iniziato Con un microfono Che tipo ce l'avevo dalle cuffie Che praticamente abbiamo Le cuffie con un microfono Attaccate al Samsung Galaxy S3 Mini E l'audio faceva cagare Poi ho acquistato il Meteor Dopo il Meteor ho acquistato Insieme al Meteor ho acquistato questa videocamera qui Dopo questa videocamera qui ho preso il filtro antipop Cioè questo Ho preso anche la stecca Cioè poi non è stecca Però è questa Oh cazzo Forse ho tipo sminchiato tutto Penso un po' di si sapete Vabbè scialla E poi ho acquistato questa Ho fatto degli acquisti grandosi Comunque niente dai Io direi che questo vlog Questa volta può finire qui Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Un commento Iscrivetevi al canale Se ancora avete fatto la vostra vostra RTT E ciao Non voglio ricoprire bene Perché qui facevo tipo E ciao E tipo la sfondavo malissima Qua invece ho paura In caso se ne va tipo a cadere dall'altra parte Ciao ciao Konnichiwa Ciao 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 Ciao